favolose, guardate automatici foderate, culissi in vita regalate a 50 euro tutto il centralino occupato grazie amiche io non sapevo, per te bellissimo 39 euro dalla taglia 40 alla taglia 50 parliamo di un pantalone jeans a palazzo strepitoso regalato a 39 euro sono stupendi amiche, non aspettate perché parliamo di jeans belli, vita alta a palazzo regalati a questa cifra non aspettate, 39 euro 45 scontato spolverino pazzesco è un tre quarti doppio petto ciao amore di mamma cosa dici? hai giocato con le tue amichette? 45 unico anche questo è eccezionale ripeto identificatevi identificatevi nei vostri nei vostri outfit e create un look per voi guardate anche questo spolverino con i leggings capite che si abbinano poi con tutto vi fate poi tutti degli abbinamenti con già le cose magari che avete già a casa ma vi danno quel tocco di qualità in più 45 euro non è assolutamente un prezzo avreste un pochino più di tempo non tanto ma un pochino di più ma uno è unico codice forse ce l'ho qua 9906 è il codice 9906 è scamosciato ma è bellissimo tipo renna solamente il pantalone costa 59 potete prenderli anche spezzati questi completi anche se è un peccato perché sono stupendi vedete aperta anche come sta bene guardate che bella perle perle nei bottoni chiusura ad automatico regalate a 45 euro una camicia impossibile da trovare allora devo farlo 10 9 8 7 sono regalate se non ho due amiche che si confermano queste camicie vuol dire che state in questo momento facendo dell'altro ma non credo perché siete state attentissime finora guardate che belle guardate che meraviglia che cuore favoloso sono tutti cuciti a mano sono pazzeschi amiche non aspetto e ve lo dico ritiro tutto quello che vi ho fatto vedere e quello che non va attorno ai prezzi di produzione ma come va amore perché c'hai quegli occhietti un po' così cosa no quello no ho usato questo è uguale a quello ma un altro colore suona tutto amiche per forza 50 euro amiche è una sariana pazzesca è ovvio che suona tutto non ne resta nemmeno una a questo prezzo guardate il dettaglio l'automatico la cerniera la culisse la fodera guardate che meraviglia si pinzano eh queste ragazzi nera gliela faccio vedere subito 59 euro non so eh vedete voi non so non so non so vedete voi taglia L favolosa siate veloci siate attente 59 euro sono tutti capi stra saldo tutte giacche in pelle che questa è la stagione ottimale per metterle e sono veramente sotto costo guardate che lavorazione 59 euro luxury collection è favolosa guardate che meraviglia guardate che spettacolo costava 125 euro è realizzata amiche in aspettate che vi do la composizione 87% 86% cotone bellissima guardate panna con questa riga orizzontale marroncina bottone in tono unica unica possibilità prima possibilità di oggi 65 euro scontata metà prezzo è al 50% me lo scrivi 50% meno 50% 65 euro favolosa tutta foderata eccezionale unica possibilità manica a tre quarti guardate che spettacolo guardate che meraviglia regalata 65 euro è stupenda amiche è stupenda misto viscosa viscosa e poliestere 59 euro giacca più pantalone pantalone che veste fino alla taglia 54 esagerati favolosi completi inediti pazzeschi amiche blu indaco nero e bianco ottico non aspettate amiche sono fantastici 29 guardate giacchino favoloso scontatissimo una taglia media 29 euro non ho il codice ma guardavo se lo trovavo no non ce l'ho il codice no guardate con tutto il dettaglio jeans 29 euro unica molto biker questa qui eh molto biker che bella amiche ah ce l'ho qua la 568 ciro il codice 568 29 euro favolosa da confermare al volo è bellissima guardate che dettagli particolari con un bel pantalone blu con un bel jeans è favolosa regalata 29 la ritiro perché unica velocissime guardate che meraviglia eccezionale bellissimo costava 175 quant'era il prezzo finale ciro è foderato questo si interamente foderato scontato a 79 il mio top costa 29 tipo prada manica palloncino bellissimo tutto con vedete dettagli in elastico sul bordo della manica e sul bordo della giacca con le tasche bottoni rivestiti sempre total black amica 79 a Grazie a tutti. Grazie a tutti.